Mi congratulo con voi, spero che il festival possa essere ripetuto molto spesso al futuro e spero di essere presente anch'io la prossima volta che avrò nuovo. Nel frattempo vi auguro un buon divertimento e un buon lavoro. A presto, svegliamo. A presto, svegliamo. A presto, svegliamo. A presto, svegliamo. Altro personaggio di questo carnevale è Martino, un pulcinello ammontanato. A presto, svegliamo. A presto, svegliamo. A presto, svegliamo. La storia di Gustavo però all'interno di questo incontro che c'è stato. Quindi quello che è rilevante, secondo me, quello che ho voluto dire è che è l'importanza dell'incontro antropologico. A presto, svegliamo. Allora, svegliamo. E' un po' di più. 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 Un po' di più. Il Banerio Gamesilità per essere stata in filosofia grande. E' un po' di più. E' un po' di più. cierto però in qualsiasiaries scarti al Helfer, perché essi stato acc ancora accidentalmente. e credo che è stillo al stesso tempo, anche se è praticamente da l'interno. C'era... c'era ogni cosa che c'era. Non c'era un problema specifico, non c'era solo la globalizzazione. C'è questo problema, che significa proprio il rispetto, quindi è implica l'area visuale. Penso che è qualcosa che non possiamo evitare. Non solo come... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.